Newslibri.it, blog di promozioni letterarie, presenta. Campo di girasoli, esiste sempre una ragione per continuare a vivere, di Angelica Terzoli. Cosa succede nella mente di una ragazza che, di colpo, precipita nel baratro della depressione? Cosa accade quando la vita sembra sgretolarsi tra le dita? Come si fa a sopravvivere quando il dolore lacera il petto e l'ansia toglie il respiro? Campo di girasoli vuole essere un aiuto per tutti coloro che sono stati colpiti dalla malattia e una possibilità di capire cosa significa vivere per chi sta accanto a una persona depressa. Caro lettore, non arrenderti. Impara la pazienza e abbi fiducia. Pianta ora i tuoi semi e prenditene cura. Presto potrai godere del tuo personalissimo e meraviglioso campo di girasoli. Riprenderai a sorridere, proverai ancora il piacere delle piccole cose. Ricomincerai a vivere. È una promessa. Campo di girasoli, esiste sempre una ragione per continuare a vivere, di Angelica Terzoli.